Gli Alleluia, Buongiorno Maria, 1968 Mi viene un saluto più umano, più mio Buongiorno Maria, sei tu la Madonna Che prego ogni giorno, ogni giorno Con te, con te, con te E vede di, con tu figlio, tu figlio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.